Oggi con l'ingegner Campi e Grup CIO di Marcegaglia parliamo dei dati e del settore metallurgico. Il nostro mondo innovativo nasce innovativo e innovativo da sempre. In particolare in Italia l'industria siderologica ha utilizzato per prima i calcolatori online in real time. Questa è l'innovazione, la prima grande innovazione e il primo grande contributo dato dalle tecnologie informatiche alla siderologia. E poi è stato tutto un crescendo. A livello aziendale noi abbiamo dei tower house che ci consentono di storicizzare il dato e poi di fare analisi su stelle storiche, su determinati clienti. ma anche nel caso proprio di miglioramento del processo produttivo. Perché si possono individuare ragioni impensate di difetti che magari hanno una certa incidenza sulla nostra produttività.